Lettura di Storia delle Repubbliche Italiane nel Medioevo di Jean-Charles-Leonard-Simon de Sismondi Tomo I, capitolo II Sistema feudale, governo del Regno dei Lombardi, modificazioni occorse a questo governo dal 951 al 1039 sotto il Regno di Ottone, d'Enrico II e di Corrado il Salico, imperatori d'Allemagna. Le nazioni settentrionali, essendosi mischiate con gli italiani, fecero rinascere in questo popolo il sentimento della dignità dell'uomo, l'amore della patria, il desiderio della libertà. Ma in pari tempo gli avevano portato un sistema di governo affatto nuovo e nozioni intorno ai diritti dell'uomo diverse affatto da quelle degli antichi. I diritti della patria erano più grandi presso i romani ed i greci, ma la feroce indipendenza individuale è più assai rispettata presso i barbari. I popoli del Mezzogiorno avevano incominciato ad essere liberi entro le città, dove riuniti nelle stesse mura non tardarono a sentire fortemente che essi non formavano che un solo corpo e che tutti i loro interessi erano comuni. Per lo contrario i popoli del Settentrioni si erano mantenuti liberi nelle foreste ed avvezzi a difendersi da sé medesimi. Non cercarono in un'associazione affatto volontaria che quell'aumento di forze che potevano acquistare senza nulla perdere della individuale indipendenza. Fino agli ultimi periodi delle nostre repubbliche noi vedremo gli effetti delle idee portate dal nord. L'ineguaglianza fra i cittadini, le diverse classi di uomini diversamente liberi, le associazioni per respingere una potenza oppressiva e più di tutto il diritto di resistenza al governo furono tutte conseguenze di quel sistema di indipendenza che in appresso si chiamò feudale e che fu così frequentemente calugnato senza conoscerlo. Tutte le nazioni settentrionali riconobbero l'esistenza di una grandissima disuguaglianza tra i cittadini. La riconobbero, dissi io, non già che la stabilissero, perché fu l'effetto delle loro conquiste, l'effetto inevitabile dello stato di proprietà. La loro costituzione, malgrado tanta disuguaglianza, assicurò ai cittadini una illimitata indipendenza, ma per un abuso delle loro vittorie, abuso inseparabile dal loro stato di proprietà, non lasciarono veruna libertà agli uomini che essi non riconobbero come cittadini. L'eguaglianza o l'ineguaglianza tra i diversi ordini di cittadini in ogni nascente nazione quasi barbara è appoggiata necessariamente alla prima divisione delle proprietà territoriali. Una nazione quasi barbara non ha commercio, non ha capitali, non ha manifetture, e non può avere altre ricchezze che le terre ed i suoi prodotti. La sola terra alimenta gli uomini privi di commercio e di capitali, e gli uomini ubbidiscono costantemente a chiunque può disporre dei mezzi di vita e di godimento. Talvolta una nazione senza rivoluzioni e senza conquiste giunse a quello stato di imperfetta civilizzazione nella quale le terre vengono coltivate senza che il commercio o le arti abbiano fatto vero un progresso. Allora è presumibile che le terre siano state da principio divise in parti pressoché uguali, o perlomeno che vero un individuo non avrà avuto dalla nozione una quantità di terreni affatto sproporzionata alle braccia che dovevano coltivarli. I poderi potranno essere più o meno estesi, ma non saranno mai province, e l'ineguaglianza tra i privati cittadini non sarà mai tale che renda gli uni necessariamente dipendenti dagli altri. I cittadini, benché disuguali di fortune, non dimenticheranno che erano in origine uguali e rimarranno tutti liberi. Tale è la storia degli stati dell'antica Italia e dell'antica Grecia, e la cagione per cui dai più rimoti tempi non vebbero in queste contrade che governi liberi. Nei tempi presenti, la distribuzione delle fortune nelle colonie dell'America settentrionale ha qualche rassomiglianza con questo primo stabilimento delle nazioni agricole. I proprietari delle piantagioni danno ai loro poderi assai maggiore estensione che non ne hanno i nostri, ma però sempre proporzionate alle forze della loro famiglia. Onde esiste presso di loro una tal quale bilancia territoriale, per valermi dell'espressione Darrington, che contribuisce al mantenimento della libertà americana. Peraltro, questa libertà poteva stabilirsi senza tale bilancia, poiché gli americani hanno capitali accumulati, commercio, arti e mezzi di vivere indipendenti, ossiano poveri oppure ricchi. Ma questo equilibrio di proprietà territoriali può essere affatto distrutto da una conquista, le di cui conseguenze possono essere differentissime secondo che il popolo coltivatore sarà conquistato da un popolo pastorale o agricolo. Presso i popoli tartari, l'accrescimento delle mandrie è illimitato come le campagne della tartaria. Lo stesso uomo possiede spesse volte tanta quantità di vacche, di pecore e di cavalli, che può mantenere al suo servigio alcune migliaia dei suoi paesani. Ed infatti tutta la sua ambizione si riduce a poter accrescere il numero dei domestici. E per tal modo, quantunque i tartari siano liberi, l'autorità patriarcale è talmente da loro rispettata che un capofamiglia diventa facilmente un capo d'armata. Tali sono i capi che, seguiti dai loro pastori e dai loro domestici, fecero in più riprese la conquista dell'Asia. Di mano in mano che conquistavano qualche provincia, la ponevano sotto un governo dispotico, quantunque essi non avessero tale governo. Ciò facevano essi perché il Khan, di già proprietario di tutte le ricchezze della sua armata, credette di poter diventare ugualmente proprietario di tutto il territorio della nazione conquistata. Egli aveva fatto curare le sue greggie dai suoi figlioli e dai suoi schiavi. Dai medesimi farà coltivare i nuovi terreni e le sue nuove forze gli sembravano proporzionati ai poteri che si arrogava. Si esaminino tutti i governi asiatici e troveremo in tutto il sovrano riguardato quale proprietario di tutte le terre. Essendo in suo arbitrio o dei suoi ministri, il ritenere o l'escludere i coltivatori, questi sentono l'assoluta dipendenza verso il padrone, che può negare loro il vitto. E quindi il diritto del monarca sulle terre diventa il più sicuro appoggio del suo dispotismo. Ma può oltresi accadere che un popolo agricolo venga conquistato da un popolo semibarbaro, ugualmente agricolo. Se il primo è schiavo ed eccessivamente corrotto ed il secondo libero, il conquistatore può essere meno numeroso assai del vinto. In tale supposto, i primi abuseranno del diritto di conquista, attribuendosi l'intera proprietà delle terre e riducendo i vinti coltivatori dalla condizione di possidenti a quella di fermieri. Dopodiché avranno trovato questo espediente per dar valore ai loro domini. Niuna estensione di terreni sembrerà loro eccedente per farne un patrimonio. Invanteranno una provincia come se formasse un solo podere e per soddisfare alla propria avidità, non pensando che a farsi ricchi, diventeranno assai potenti. Per tal modo, tutte le province dell'impero romano furono divise tra i barbari del nord ed i coltivatori, come vili mandre di schiavi, rimasero attaccati alle terre che essi coltivavano. Per tal modo, in tempi a noi più vicini, gli spagnoli che conquistarono il Peru ed il Messico ebbero l'intera provincia in patrimonio, non sembrando loro soverchio un podere di 30 leghe d'estensione quando era popolato da più migliaia di coltivatori da lui dipendenti. I popoli settentrionali che stabilironi in Italia non conoscevano le arti di lusso e bentosto le fecero sparire dai paesi in cui abitarono. Il commercio non offrì più all'uomo possessore di un'intera provincia i mezzi di cambiare la sussistenza di più di migliaia di persone con le delicatezze che niuno con lui divideva. Una futile vanità, il fasto, non allettavano i conquistatori, i quali, divenuti gentiluomini, non convertivano il prodotto di un potere in abiti ricchissimi, in merletti, in stoffe d'oro. Colossali erano le fortune, ma colossali altre sì l'uso che ne facevano. Le loro ricchezze consistevano in derrate che servono ad alimentare gli uomini, grani e vino, bestiami, che effettivamente impiegavano nel mantenimento degli uomini dipendenti da loro. La forza aveva creata la loro ricchezza e la loro ricchezza ne accresceva a vicenda la forza. Su tale solidissima base si fondava la potenza della nobiltà dei mezzi tempi. Quando i Lombardi conquistarono l'Italia, questi uomini valorosi, indipendenti, guerreggiando per sé medesimi e non per un padrone, divisero le loro conquiste in altrettanti feudi quanti erano i guerrieri. Conoscevano peraltro i vantaggi della militare disciplina e conservavano all'armata la sua forma e la sua subordinazione nello stabilimento che doveva farne una nuova popolazione. Diedero ai loro capitani il titolo di duchi o generali e a loro affidarono il governo delle città con un diritto di alta proprietà o di signoria sul territorio che le circondava. Conservarono a sé medesimi il titolo di milite e cada uno ottenne la proprietà feudale di una porzione del territorio d'ogni città, dei castelli o dei villaggi che ne dipendevano. Da allora in poi il vocabolo milite fu adoperato per indicare il gentiluomo piuttosto che il soldato. La proprietà non apparteneva realmente che ai gentiluomini. I lavoratori, i vassalli che essi avevano spogliati ed obbligavano a travagliare per conto loro, dandogli la terza parte dei prodotti, trovavansi in una condizione assai vicina alla schiavitù. Nel rango superiore l'autorità dei duchi, attaccata alla conservazione di un certo ordine sociale, non fondavasi che sopra una finzione di proprietà, sopra un diretto immaginario, rispetto a territori e province che essi non possedevano. Pure lo stesso sistema formava la sicurezza del duca, ugualmente che del gentiluomo, sanzionando ad un tempo l'obbedienza del vassallo e del valvassore. E quindi, per il corso di secoli, i duchi non furono forti che per la forza dei gentiluomini loro subordinati. Risalendo la scala feudale, il re, posto al di sopra dei duchi, avrebbe dovuto esercitare sopra di loro l'autorità medesima che i duchi avevano sui gentiluomini. Ma se il diritto di proprietà dei grandi vassalli su tutta la provincia non era che una finzione di legge, il diritto di proprietà del re su tutto il regno era una finzione ancora più lontana dalla realtà. E poiché la stabilità del potere era appoggiata alla ricchezza territoriale, il potere dei gentiluomini sui loro subordinati doveva essere assoluto, precario quello del duca e quello del re, quasi nullo. L'anno 576, epoca della morte di Clefi, il secondo dei principi lombardi che regnarono in Italia, la nazione suppose di poter fare senza capo. I duchi, che allora erano trenta, furono risguardati quali rappresentanti di tutti gli uomini liberi accostumati a combattere sotto le loro insegne. Si affidò loro l'amministrazione dello Stato ed essi rappresentarono per dieci anni una imperfetta immagine di repubblica. A tell'epoca, gli stessi gentiluomini si accorsero che per assicurare la loro libertà era necessario che i loro capi dipendessero da un superiore e colsero l'opportunità di una pericolosa guerra con i franchi e con i greci per sottomettersi nuovamente all'autorità reale. I lombardi erano indipendenti piuttosto che liberi. L'indipendenza loro veniva garantita dalle loro proprietà, dalle armi dei loro vassalli e dalla debolezza dei re. Non già dalla loro costituzione. Varie loro leggi sembrano anzi fatte per sanzionare la tirannide. Se tal'uno di concerto col re, dice Rotary, prepara la morte ad un altro o lo uccide d'ordine del re, non è punto colpevole. Né la di lui persona, né gli eredi potranno essere molestati per tal fatto. impero che, credendo noi che il cuore del re sta in mano di Dio, non è possibile che si chieda conto ad un uomo di colui che il re fece uccidere. E senza questa legge, i giudici del re potevano tenersi responsabili non solo alla nazione, ma ancora alle famiglie dei colpevoli delle più giuste sentenze. Lo spirito nazionale, l'indipendenza dei gentiluomini e la debolezza del monarca impedivano che la vita dei subalterni fosse, in forza di tal legge, in balia di un despota. Non è da sperarsi di trovare nelle costituzioni o in verun codice delle nazioni barbare qualche garanzia dei diritti del popolo, delle prerogative dei gentiluomini o restrizioni alla illimitata autorità reale. Tutto ciò esisteva indipendentemente dalle leggi, ma ciò che caratterizza una nazione libera era la fissazione della pena per ogni offesa, portata ad una precisione che al presente parebbe ridicola e che altamente giovava ad impedire agli arbitrari i giudizi. Lo stesso deve dirsi della legge che castigava la disubbidenza al duca o al re con un'ammenda determinata, di modo che ognuno sapeva sempre a qual prezzo e con quale pericolo poteva riscuotere il gioco dell'autorità. Era per ultimo la garanzia data ad ogni gentiluomo nella propria giurisdizione. La pubblicazione di tali leggi indicava un popolo libero, più assai che il loro contenuto. Io li otprando, dice il monarca nella prefazione, re cattolico e cristiano della nazione dei Lombardi, che Dio ama, di consenso di tutti i miei giudici d'Austria, di Neustria e delle frontiere della Toscana, di consenso di tutto il rimanente dei miei fedeli Lombardi ed in presenza di tutto il popolo, ho trovato ciò che segue santo e lodevole e conforme all'amore e al timore di Dio. Il regno dei Lombardi era elettivo. Di 18 re che avevano preceduto Rotary, tre o quattro soli succedettero ai loro genitori. Vero è che dopo Carlo Magno la corona rimase nella famiglia dei Carlo Vingi fino alla sua estinzione, ma dopo Carlo il Grosso la nazione rientrò nei suoi diritti ed esercitò molte volte in breve spazio di tempo il diritto di nominare i suoi capi, onde mantenersene in possesso. L'Assemblea nazionale, che chiamavasi Placita Seumalli Regni, riuniva Pavia, capitale degli stati Lombardi, talvolta a Milano ed in appresso in campagna aperta nella pianura di Roncaglia, presso Piacenza. Il nuovo sovrano, o aspirasse al trono per averlo meritato con le sue vittorie, oppure vi fosse invitato dai grandi, era quello che convocava l'Assemblea, la quale era composta di prelati, di duchi, di conti, dei legati reali, dei giudici degli imperatori, degli scabini, dei notari, dei legisti e, per dirlo in una parola, di tutti gli uomini liberi che erano tenuti di assistervi quando anche non vi avessero voce deliberativa. Questa Assemblea dava, o piuttosto confermava, la corona per acclamazione. Nel secolo X era il più delle volte ridotta a giustificare un'usurpazione, deponendo il sovrano che aveva avuto la disgrazia di rimanere perdente, a ricevere dal nuovo re il giuramento di conservare i privilegi accordati alla Chiesa dai suoi predecessori e finalmente ad esigere da lui le vaghe e generali promesse di rispettare i diritti di tutti, di osservare la giustizia, di proteggere i poveri, di reprimere le vessazioni dei soldati. I soldati che nominavano e deponevano i re avevano più cura di mantenere la loro indipendenza nelle province loro che i diritti dell'Assemblea di cui erano membri. La carta d'elezione terminava d'ordinario con le seguenti parole. E come il glorioso re N si è degnato di promettere che osserverà tutte le condizioni soprascritte la di cui osservanza è ben necessaria e che col divino aiuto avrà cura della nostra e della sua salvezza. E' piaciuto a tutti noi di eleggerlo nostro re, signore e difensore obbligandoci di aiutarlo con tutte le nostre forze nel real ministero per la sua conservazione e per quella del regno. Intanto, agli occhi del popolo, il potere sovrano veniva trasmesso al nuovo monarca colpore in capo la corona di ferro che custodivasi a Monza. Quando il grande ottone fu così coronato, Valperto, arcivescovo di Milano, celebrò i santi misteri circondato da molti vescovi. Frattanto, il re depose sull'altare di Sant'Ambrogio tutti i reali ornamenti, la lancia, il di cui di ferro era stato fatto con un chiodo della croce di nostro signore, la spada reale, l'ascia, il budriere e la clamide imperiale e servì vestito da sottodiacono, mentre il clero celebrava la messa secondo il reto ambrosiano. Terminato il sacrificio, l'arcivescovo arringò i duchi ed i marchesi che lo circondavano, ricordando loro le virtù di Ottone che unse col sacro crisma. Indire vestitolo degli abiti e delle armide poste sull'altare, pose finalmente sul di lui capo la corona di ferro dei Lombardi. L'assemblea generale dei Placiti, alla quale spettava l'elezione del sovrano, era pure gran corte di giustizia del regno e dal suo nome Placita che derivano i vocaboli di plaider e plaid dei francesi. Veniva periodicamente convocata almeno due volte all'anno, nell'estate e nell'autunno e tutti gli uomini liberi immediatamente dipendenti dal re dovevano assistervi. È probabile peraltro che i vassalli assai lontano dalla residenza della corte potessero dispensarsi dall'intraprendere un viaggio che doveva loro riuscire assai gravoso purché intervenissero poi alle dunanze che erano presedute dal conte del sacro palazzo in tutte le province a nome del re. Questo conte era il principale ministro di giustizia della monarchia cui apparteneva di pieno diritto la convocazione dell'assemblea nazionale in tutte le parti dello stato di presederla in assenza del re e quando erano terminati pubblici affari di rendere giustizia in suo nome. Eranvi pure altre assemblee nelle province di natura analoga alle adunanze del regno dette giudizi del signore cui tutti gli uomini liberi dipendenti da un grande feudatario dovevano assistere. Nei monumenti che ci restano di queste assemblee non si trova cosa che possa indicare che si facessero antecedenti discussioni ai decreti del presidente. È bensì vero che non possiamo sperare di conoscere le modalità degli stati del regno stando al formulario adoperato dai notai nella redazione dei loro atti i quali non potendo maneggiare il barbaro latino in cui gli scrivevano studiavansi di omettere o abbreviare tutte le particolarità che non avrebbero saputo descrivere. Siamo di parere che non avessero voce deliberativa che i grandi signori che i giurisconsulti e gli scrivani non fossero chiamati alle assemblee dello stato che per giovare al loro signore col consiglio come che istruiti assai più degli altri intorno alle cose della legge potessero avervi una maggiore influenza. Suppongiamo ancora che i cittadini si riunissero in queste assemblee per dar maggiore autenticità agli atti pubblici perché i testimoni e le parti si trovassero più facilmente e perché più facilmente in tanto numero si avessero uomini istruiti intorno ad ogni legge i quali servissero da arbitri nei processi qualunque si fosse il codice nazionale che le parti dichiaravano di aver adottato. Bel privilegio avevano le nazioni settentrionali conservato ai cittadini la libera scelta di sottomettersi alle leggi dei loro maggiori oppure a quelle che trovassero più conforme alle proprie nozioni di giustizia e di libertà. Presso i Lombardi trovavansi in vigore sei corpi di leggi la legislazione romana Lombarda Salica Ripuaria Alemanna e Bavara e le parti nell'incominciare dei processi dichiaravano i giudici che vivevano e volevano essere giudicate secondo la tale o la tal'altra legge. La stessa facoltà della scelta fu accordata ancora ai romani quando il loro ducato venne riunito alla monarchia dei Carlovingi. Noi vogliamo dichiara l'imperatore lotario che il popolo romano venga interrogato sotto qual legge vuol vivere che ognuno viva in appresso secondo la legge che va professata che ne siano avvertiti i cittadini e lo sappiano i giudici i duchi ed il rimanente del popolo. Sotto il governo dei Carlovingi l'estinzione di molte famiglie ducali aveva fatto luogo ad un altro ordine di alta nobiltà quello dei conti. Di tutte le classi nobili quella dei conti sembrava più immediatamente dipendere dal re poiché quantunque la loro dignità passasse spesse volte di padre in figlio non era loro accordata che precariamente e fino all'epoca in cui Corrado il Salico autorizzò la trasmissione di tutti i feudi di padre in figlio sembra che i conti ricevessero il loro governo dal sovrano che poteva a suo piacere riprenderlo. Nella patente di loro creazione il re dichiarava che conoscendo l'amore di NN per la giustizia gli affida la stessa città che fu governata dal suo predecessore con obbligo di mantenersi costantemente fedele alla corona di giudicare tutti gli uomini sottomessi al suo governo di qualunque nazione essi siano secondo le loro leggi e costumi di proteggere le vedove e gli orfanelli di perseguitare i malfattori e di far pagare al fisco le tasse dovutegli. In questa carta non è menzionato un altro importantissimo ufficio dei conti quello di condurre le milizie alla guerra e siccome più volte accadeva che il conte di una città nera in pari tempo ancora il vescovo questa militare incumbenza assai male si confaceva al carattere ecclesiastico. Il conte nelle sue particolari corti sceglieva tra gli abitanti gli scabini che formavano la magistratura delle città ed i cittadini li confermavano col loro voto. Questi scabini avevano il loro conte alle pubbliche assemblee del regno di modo che ogni città trovavasi in queste assemblee rappresentata dal suo governatore e dai suoi magistrati. E come non vi si contavano le voci e che le parti del popolo erano quelle di sanzionare o rigettare le proposizioni del principe con le acclamazioni una più esatta rappresentanza sarebbe stata illusoria. Attraverso delle rivoluzioni degli ordini superiori della nobiltà gli uomini liberi tra i quali erano state in origini divise le terre di conquista conservarono per il corso di cinque secoli almeno la medesima indipendenza ed il rango medesimo. Sembrò inoltre che acquistassero maggiori considerazione e potenza allorché ripopolatesi le campagne sacrebbe il numero dei loro vassalli. Dopo tale epoca non furono più considerati come semplici soldati che anzi presero il titolo di capitanei, catanei o quello di conti rurali e quello di signori o di gentiluomini. Ognuno di loro possedeva un villaggio e di cui terre formavano la sua proprietà e di cui abitanti erano i suoi vassalli. Un signore viveva nelle sue terre da piccolo sovrano e perciò il soggiorno del suo castello gli doveva essere più aggradevole assai che quello delle città dove doveva sostenere il confronto dei suoi eguali e l'uminiante superiorità della corte sovrana. Per mettersi in salvo contro le incursioni degli Ungari e dei Saraceni ogni gentiluomo nel IX e nel X secolo fortificò il suo castello che gli diventò ancora più caro poiché all'indipendenza riuniva il vantaggio della sicurezza. E per tala ragione le più considerabili città furono abbandonate dai loro cittadini che coprirono la campagna di fortezze. L'autorità dei conti e degli scabini sopra i signori rurali diventò fatto illusoria allorché questi furono inistato di poter opporre agli ordini dei loro superiori castelli difficilmente spugnabili e milizie addestrate all'armi. Intanto le città s'adontarono nel vedere che i gentiluomini sottraevano la loro obbedienza a parte delle campagne che formavano il loro distretto altronde credute necessarie alla loro sussistenza. E l'implacabile odio che concepirono contro i nobili si manifestò con una guerra crudele tosto che queste incominciarono a reggersi in comune. I nobili castellani venivano ancora indicati col nome di Valvassori che nel sistema feudale esprime la doppia loro dipendenza. Effettivamente essi erano ad un tempo vassalli dei conti o dei duchi dai quali dipendevano immediatamente e Valvassori del re. Circondati dai loro contadini che essi tenevano in assoluta dipendenza non sentivano il bisogno di coltivare il loro spirito per distinguersi nella società né di acquistare qualità singolari per ispirare il rispetto ai loro inferiori di già sottomessi. La caccia e le armi formavano le loro delizie come erano i soli oggetti del loro lusso. L'educazione di un gentiluomo riducevasi a saper domare un cavallo bizzarro a palleggiare con destrezza una grossa lancia o lo scudo e a sopportare senza fatica la più pesante corazza. Avrebbero creduto di avvilirsi occupandosi delle lettere o del dirozzamento dei loro costumi. Ormai la lingua volgare incominciava a prendere un carattere affatto diverso dalla latina che sola peraltro si scriveva. Tutti i contratti dei gentiluomini dei quali moltissimi conservaronsi fino a questi tempi sono stipulati con strumenti dettati in così barbaro latino che si ha difficoltà a crederlo latino. A piede l'atto l'acquirente e il venditore di testimoni d'ordinario tutti i gentiluomini facevano il segno della croce per non saper scrivere in seguito alla quale il notaio dichiarava di essere il segno di cada uno degli interessati. I gentiluomini erano non meno stranieri alle arti che alle scienze. Studiavansi di rendere i loro castelli inespugnabili ma non si curavano appunto di ornarli e di renderli aggradevoli. Sussistono ancora molti di questi edifici cupi austeri ma solidi in modo che dopo aver trionfato dei nemici resistono da più secoli alle ingiurie del tempo. Fabbricati d'ordinario in luoghi selvaggi sulle sommità delle rupi o in fondo a difficili passaggi hanno più l'aspetto di prigioni che di signorili abitazioni onde si lasciano andare in rovina. Nel lusso degli abitanti era più conosciuto di quello delle case o degli arredi. Alla corte dell'imperatore e da quelle dei marchesi di Toscana facevasi pompa talvolta di qualche abito sontuoso ma gli abiti che i nobili usavano nei loro castelli non differivano molto da quelli dei paesani loro soggetti. Poco conosciuta è la condizione degli uomini di campagna subordinati ai signori. Quantunque sia l'oggetto della maggior parte delle leggi dei franchi, dei longobardi, dei tedeschi e sia stato l'argomento di molti dissertazioni nelle quali ducani e muratori non sono sempre dello stesso sentimento. I diversi nomi che trovansi nelle leggi e nelle antiche scritture indicano evidentemente varie classi di uomini dipendenti ma la precisa significazione di tali nomi ci è il più delle volte ignota. Gli arimanni formavano il primo ordine degli agricoltori ed abitanti di campagna. Erano costoro uomini di libera ed onorata condizioni che possedevano o avevano possedute alcune terre allodiali ma che in pari tempo coltivavano altresì le terre di qualche signore in virtù di un atto che non li assoggettava avere una vile condizione. Gli arimanni erano i soli abitanti della campagna non gentiluomini che fossero tenuti ad assistere alle corti dei conti. Porrò nel secondo rango gli uomini di Masnada o le guardie del signore. Questi ricevevano dai gentiluomini alcuni pezzi come podere militare. Oltre il canone che si pagavano a danaro o in derrate si obbligavano pure a seguire il loro signore alla guerra qualunque volta fosse costretto di prendere le armi. Gli Aldi ossiano gli Aldiani avevano il terzo rango. Somigliante per certi rispetti ai liberti dei romani erano uomini nati schiavi che avevano ottenuto dai loro padroni una quasi intera libertà ed avevano cambiato l'assoluta di loro dipendenze in rendite determinate ed in servigi personali. Tenevano essi a prigione le loro terre dei loro signori ma le persone erano libere. Finalmente gli schiavi componevano l'ultimo ordine della società e la più bassa siccome la più numerosa classe degli abitanti della campagna. Le condizioni loro non erano in ogni luogo uguali. Gli uniservi della gleba vivevano sulle terre che coltivavano col prodotto del proprio travaglio corrispondendo l'eccedente ai loro padroni secondo certe precise regole sanzionate dall'uso. Altri ridotti ad una dipendenza assoluta non lavoravano che per i loro padroni ed in virtù dei loro ordini e da loro avevano il nutrimento. Ma quantunque la condizione degli schiavi fosse assai dura erano meno infelici degli schiavi romani in campagna quando i costumi avevano incominciato a corrompersi. Molte leggi lombarde proteggono i servi contro l'ingiustizia o il soverchio rigore dei padroni dichiarano libero il marito della donna sedotta dal padrone assicurano l'asilo delle chiese agli schiavi che vi si rifugiassero e regolano le pene proporzionalmente ai commessi delitti invece di abbandonarli all'arbitraria punizione del padrone e siccome i signori conoscevano ad aver bisogno dei loro soggetti qualunque volta venivano attaccati procuravano perciò di farsi amare e li trattavano con dolcezza onde aver soldati pronti a difenderli la schiavitù delle campagne romane ai tempi degli imperatori spopolò l'italia e la schiavitù delle stesse campagne sotto la nobiltà feudale non fece danno alla popolazione le leggi lombarde obbligavano i vassalli a seguire alla guerra a proprie spese il loro signore procurandosi del proprio il cavallo le armi e le vettovaglie Carlo Magno ordinò che quando l'armata fosse invitata ad entrare in campagna ogni soldato si provvedesse di armi di ogni genere d'abiti per un anno e di viveri fino alla nuova stagione vero è quanto ai viveri che i soldati introdussero bentosto la costumanza di farli somministrare dalle campagne e dalle province che attraversavano costumanza che divenne in seguito un diritto conosciuto sotto il vocabolo di fodero il quale fu limitato nel trattato di pace di costanza ogni uomo libero che ricusava di raggiungere l'armata incorreva nella multa di 60 soldi 36 once d'argento e non avendo di che pagarla veniva ridotto in ischiavitù quantunque tutti gli uomini liberi dovessero recarsi all'armata e che nelle pressanti circostanze la legge non eccettuasse che un solo maschio per ogni famiglia che ne aveva più di uno il quale doveva essere ancora il più debole pure le armate erano d'ordinario poco numerose forse la legge era male eseguita forse il numero degli uomini liberi era assai limitato sia rispetto al numero degli schiavi e dei villani che non prestavano servizio militare come rispetto agli uomini troppo poveri per mantenersi il cavallo per cui univansi due o tre famiglie per darne uno finalmente può ancora supporsi che non si tenesse conto delle milizie a piedi delle città quantunque facessero parte delle armate il nome di soldato si dava esclusivamente al cavaliere il quale doveva essere coperto di pesante armatura doveva portare un caschetto la collana la corazza stivaletti di ferro ed un largo scudo combatteva con la lancia con la spada con lo stocco o con l'ascia che la cavalleria in appresso abbandonò il cavaliere il giorno della battaglia montava il cavallo di battaglia ma nelle marce servivasi del palafreno che lasciava in mano allo scudiere quando doveva battersi secondo gli ordini di Carlo Magno i pedoni dovevano portare una lancia uno scudo un arco con due corde di cambio e dodici frecce le leggi dei lombardi dei franchi e dei tedeschi sottomettevano quasi tutte le cause al giudizio di Dio ed il combattimento militare era la più comune forma di giudizio è ben naturale che da questo stato di guerra giudiziaria i gentiluomini passassero a private guerre frequentissime quando erano stati ingiuriati le stesse leggi loro consentivano di chiederne soddisfacimento e dalla loro onimistà una volta dichiarata davasi il nome di faida le leggi non gli imponevano che il dovere di rinunciare alla vendetta quando veniva loro pagato il compenso pecuniario dell'ingiuria ricevuta tale pagamento chiamato Withery Guild doveva farsi cessante faida ma se alcuna delle parti rifiutavasi di pagare o di ricevere il prezzo dell'ingiuria si prolungava la contesa e le due famiglie restavano in guerra la nobiltà trovavasi divisa da infiniti litigi di tal sorte poiché quasi tutti i gentiluomini preferivano ad un componimento amichevole la decisione delle armi per tal motivo specialmente si prendevano grandissima cura di tenere i loro vassalli esercitati nel maneggio delle armi ed affezionati alla loro persona e perché i servi non potevano entrare nella milizia i loro padroni trovavano spesse volte conveniente di affrancarli e di innalzarli al rango di uomini di masnada o di arimanni tale era l'epoca della sua istituzione il sistema feudale un miscuglio di barbarie e di libertà di disciplina e di indipendenza la quale in singolar modo contribuiva a rendere ad ogni uomo il sentimento della propria dignità ed energia che sviluppa le virtù pubbliche e quella fierezza che le mantiene la schiavitù dei coltivatori era non va dubbio la parte odiosa di questo sistema ma dobbiamo risorvenirsi che fu stabilito allorché la più assoluta e vergognosa schiavitù formava parte del sistema e dei costumi di tutte le nazioni incivilite che gli schiavi romani che coltivavano la terra dovessero chiamarsi felici diventando servi della gleba e che il vassallaggio fu la scala per cui le più abiette classi del popolo passarono dalla schiavitù antica all'attuale loro libertà nel sistema feudale il legame sociale era assai debole pure sufficiente finché durò delle piccole popolazioni che l'avevano adottato lo spirito nazionale un'origine ed una gloria comune un nome nazionale caro a tutti i cittadini legge ammesse dal comun consenso spesso portate dalle estremità della Germania che costituivano il più nobile titolo dell'eredità di ogni guerriero strinsero finché i popoli rimasero indipendenti i legami che univano i lombardi i babari i franchi salici ed i franchi ripuari l'ambizione di Carlo Magno che li riunì tutti sotto la sua vasta monarchia fu la prima cagione della prossima scomposizione l'uomo che appartiene all'impero del mondo non ha più patria né sentimento nazionale per alcun tempo i governatori hanno potuto essere sedotti dallo splendore delle loro conquiste e del loro re e sentire il solletico delle vittorie che pure distruggevano ogni speranza di felicità ma il vergognoso regno dei discendenti di Carlo Magno fece cadere questa illusione ed i popoli conobbero allora tutti assieme che l'impero d'occidente non era una patria o seppure lo era era tale da non far loro provare che dolore e vergogna per essere esposta alle continue umiliazioni dei saraceni degli ungari degli avari degli slavi dei normanni dei danesi i quali tutti erano divenuti potentissimi per il debole impero dei figli di Carlo Magno per le nazioni incivilite e corrotte la perdita dello spirito pubblico è una specie di morte nazionale riducendo gli uomini a quello stato di avvilimento in cui i greci ed i romani si trovarono sotto gli ultimi imperatori ma in una nazione ancora piena di energia e dove un principio di vita anima tutto quando si estingue lo spirito pubblico diventa maggiore il vigore individuale che conserva ancora la dignità dell'umana natura in mezzo alle sventure dello stato nello stesso tempo in cui i venti saraceni osarono fondare una colonia nemica frassineto posto nel centro dell'impero di Carlo Magno i baroni che lo circondavano erano bravi soldati e tutta la sua nazione bellicosissima ma l'abbassamento dello spirito pubblico la disunione di tutti i membri dell'impero le guerre civili o al meglio dire private tra i signori dei castelli infine la diffidenza e la gelosia di ogni villaggio per il villaggio vicino rendevano la nazione incapace di far resistenza ai nemici il disordine era cresciuto a segno che i paesani non ardivano uscire dalle loro muraglie per seminare i campi le raccolte venivano distrutte o portate via dai nemici le strade rese impraticabili dal ladroneccio nel sesto secolo tutti gli ordini della nazione separatamente considerati erano scontenti del legame che gli univa allorché un principe ambizioso occupava il trono aveva costume di dividere tra i suoi favoriti i grandi feudi come facessero impieghi civili lo che gravemente offendeva i principali signori le città forzate di difendersi da sei medesime contro le incursioni dei barbari circondarono si di muro addestrarono le loro milizie e terminarono col disprezzare un governo incapace di proteggerle i gentiluomini stanchi di un servizio rovinoso paventavano i messaggeri del re che non chiamavano li che a fazioni militari senza glorie e da diete senza libertà per ultimo i paesani oppressi dai loro signori e tormentati dalle rapine e delle guerre private rifiutavano una patria che non gli aveva in conto di cittadini di mezzo a tanta anarchia eransi formate alcune parziali società per la comune difesa ed i capi politici indipendenti esistenti in seno alla nazione e la formazione loro dovevano affrettare lo scioglimento di quel legame sociale che le recenti associazioni rendevano inutile nello stato ordinario della società quantunque l'autorità sovrana sia onerosa a coloro che ne sostengono il peso tutti non pertanto temono gli effetti dell'anarchia e sentono come sarebbero esposti ad ingiuste aggressioni quanto deboli e sventurati se un'autorità protettrice se una forza superiore a quella degli individui non repremesse le violenze e non conservasse l'ordine fra gli opposti interessi che sogliono produrre fra gli uomini incessanti motivi di querela ma quando la società accoglie nel suo seno varie e parziale associazioni né i capi né i membri temono più le conseguenze dell'anarchia un duca di Spoleti o del Friuli risguardava il re d'Italia quale oppressore che si arrogava il diritto di usurpare l'eredità ai suoi figlioli di dividere le sue entrate di porre limiti alla sua autorità un geloso nemico che non potendo sempre opprimerlo con le proprie forze procurava di rivolgere contro di lui quelle dei vicini che per nuocerli univa l'astuzia alla violenza ma che in veruna circostanza accorreva in sua difesa o gli era in qualsiasi modo utile perciò i grandi feudatari non risguardavano più la caduta del trono con quell'inquieto timore che in noi produce un'imminente rivoluzione di cui non si possono calcolare gli effetti al contrario essi erano a portata di conoscere perfettamente i risultati di tale cambiamento conoscevano ugualmente le forze delle proprie e quelle dei loro vicini vedevano di poter dividere tutte le prerogative dell'autorità reale e tutte le spoglie del trono che senza pericolo di disordino d'anarchia avrebbero anzi conseguito maggior sicurezza l'indipendenza e più illimitato potere nell'interesse dei sudditi era in tal caso in opposizione con quello dei loro padroni perché il monarca non li aveva mai salvati dalle vessazioni del duca o del marchese né alla deposizione loro avevano mai dato motivo le lagnanze del popolo e quando i soggetti sono lasciati in balia dei loro padroni è a desiderarsi che la signoria sia ereditaria affinché i padroni siano più interessati alla conservazione e dalla prosperità della medesima l'autorità di un signore temporario non era perciò più limitata e quando era destituito gli era il più delle volte surrogato un uomo di minor condizione che la povertà rendeva più avido e più oneroso ai sudditi doveva inoltre sembrare più agevole ai sudditi dei magnati illimitare l'autorità di un piccolo principe che quella di un grande re di reprimere le vessazioni di un uomo che non aveva che le forze dei propri sudditi piuttosto che quelle di un sovrano che adoperando la politica dei despoti valevasi dei sudditi di una provincia per incatenare quelli di un'altra sembrerà strano che con tali disposizioni gli italiani non deponessero Berengario II e non abolissero l'autorità reale invece di chiamare Ottone dagli estremi confini dell'Allemagna e sottomettersi a lui ma eranovi due altre ordini della nazione che quantunque mal soddisfatti credevano non pertanto di dover sostenere il trono le città non potevano chiamare il loro soccorso che i re i quali peraltro non le proteggevano esse soffrivano tutti i mali dell'anarchia e non avevano ancora abbastanza forze per provvedere alla propria sicurezza onde i cittadini antiveggenti dovevano desiderare che si sottraessero lentamente all'impero piuttosto che recuperare tutto ad un tratto quell'indipendenza che non avrebbe potuto difendere altronde anche i gentiluomini e la nobiltà di secondo rango temevano ugualmente quello scioglimento della monarchia che li avrebbe posti in arbitro dei magnati limitrofi amando meglio dubidire ad un re che ad altri nobili che essi credevano loro uguali la concessione della corona imperiale agli alemanni garantì a tutti gli ordini della nazione quel grado di indipendenza che si conveniva alla situazione e dalle sue forze facilitò lo scioglimento pacifico del legame sociale e l'erezione nell'interno dello stato di una quantità di piccole popolazioni che diventarono libere tosto che non ebbero più bisogno della protezione del monarca il regno d'ottone fu al di fuori illustrato dalle vittorie internamente dallo stabilimento di una costituzione proporzionata allo spirito del secolo e dal bisogno della nazione ben più che a carlo magno si conviene ad ottone il nome di grand'uomo e se non altro il suo regno contribuì efficacemente alla prosperità dei popoli a lui sottomessi carlo ebbe l'ambizione dei conquistatori e per ingrandire l'impero distrusse con lo spirito nazionale il vigore dei popoli vinti ottone non fu meno vittorioso di carlo ma ottone trionfò dei nemici dei popoli ridotti a civiltà e degli aggressori che guastavano le province dell'impero con le loro scorrerie egli non cercò di estendere i limiti dell'impero e non si arrogò che i poteri necessari per proteggere i suoi sudditi e dopo aver data la pace alle sue province preparò i popoli a poter un giorno essere indipendenti la costituzione che ottone il grande diede agli italiani poiché ebbe conquistato tutto il regno di Berengario era di tutte la migliore per conservare al monarca obbligato di trattenersi a lungo tempo nei suoi stati in Germania la sua autorità prima della fatale invenzione delle truppe di linea prima di scoprire che uomini liberi potevano ridursi a vendere la loro volontà e le loro braccia per un miserabile salario il despotismo non poteva avere regolare e durevole stabilimento finché era in luogo l'ascendente di un grand'uomo faceva piegare ogni cosa alle sue volontà e ciò con tanta maggiore facilità quanto più grande era nei popoli il dovere della riconoscenza ma tosto che si allontanava l'interesse personale ripigliava il suo predominio sul cuore di ogni individuo e l'obbedienza del soggetto si proporzionava esattamente al beneficio che sperava di conseguire dall'ordine pubblico Ottone aveva condotto in Italia una grande armata ma questa armata era feudataria ogni ufficiale era tenuto in virtù della sua baronia di servire al re per un determinato tempo ed ogni cavaliere doveva per tutto questo tempo seguire il suo barone da cui aveva ricevuto il feudo ultimata la spedizione l'armata voleva ed aveva il diritto di ritornare ai suoi focolari se Ottone avesse voluto stabilire in Italia un gran signore con una guardevole forza non poteva farlo che dandogli terre per lui e per i suoi vassalli e spogliando gli abitanti di un'intera provincia delle loro proprietà tirannica misura che senza procurargli assai fedeli i vassalli gli faceva tanti implacabili nemici se poi si accontentava di provvedere alle province di governatori stranieri senza cambiare gli abitanti siccome i governatori non avrebbero avuto altra forza che quella dei loro soggetti così non potevano sperare di essere ubbiditi se non facendosi amare e finché i loro ordini non si opponessero all'interesse dei vassalli per ultimo se Ottone si fidava ai baroni italiani si poneva allontanandosi in loro balia più che non lo fossero i suoi predecessori ma Ottone era potente e glorioso e nei quattro anni che egli aveva impiegati alla testa di una poderosa armata a sottomettere il regno lombardo egli aveva con mano forte preso lo scettro e sempre trionfato dei barbari e represse le ribellioni dei sudditi e di suo figlio medesimo sempre caro i suoi soldati fu rispettato dal clero benché si fosse valso dei premi per comprimerlo deponendo due pontefici e riducendo la chiesa nella sua dipendenza accrescevano la sua potenza la fermezza del suo carattere e la costanza irremovibile delle sue risoluzioni che tendevano sempre a grandi cose pure con si grandi mezzi non avrebbe ancora potuto arrogarsi un'autorità dispotica senza esporsi a perderla all'istante che ripresserebbe le alpi fu troppo savio e troppo grande per farne soltanto l'esperimento egli si valse all'opposto della medesima sua potenza per gettare i fondamenti della libertà le città erano state fino a quei tempi governate dai loro conti che d'ordinario erano pure i loro vescovi questi signori essendo quasi tutti italiani dovevano per conseguenza essere poco ben affetti all'imperatore non ne restrinse pure formalmente le prerogative ma favorì gli abitanti delle città a dilatare le loro immunità con pregiudizio delle prerogative signorili il conte come il re non aveva truppe sotto i suoi ordini onde per dare esecuzione ai suoi voleri in una città assai popolata ed avvezza alle armi era forzato o di guadagnarsi l'affetto dei cittadini con lo rinunciare ad alcune prerogative oppure di invocare l'autorità del re che non era disposto a favorirlo le città in un certo qual modo abbandonate a sé medesime si diedero di consenso del re un governo municipale tali costituzioni si stabilirono durante il regno d'Ottone il Grande e dei suoi successori senza opposizione senza tumulto ma altresì senza una carta che ne attesti la legittimità quindi l'antichità loro non è comprovata che dalla prescrizione sempre in progresso allegata dalle città qualunque volta vennero richiamati in dubbio i loro privilegi i nuovi municipi conservarono per Ottone il Grande il loro benefattore la debita riconoscenza che non venne meno finché durò la di lui famiglia ma quando l'ultimo degli ottoni morì senza figliuoli trovandosi per tale avvenimento sciolti dai vincoli che li univano la casa di Sassonia scossero interamente il gioco tedesco peraltro Ottone il Grande negli intervalli che dimorava fuori l'Italia non lasciò depositare del suo potere le sole città egli aveva investito vari signori tedeschi ed alcuni italiani che gli avevano dato sicure prove d'attaccamento dei feudi più importanti del Marchesato di Verone e del Friuli e del Ducato di Carinzia Enrico Duca di Baviera suo fratello onde avere in ogni tempo libero l'ingresso d'Italia creò il Marchesato d'Este in favore d'Oberto uno dei gentiluomini che lo avevano assistito contro Berengario ne istituì un altro che comprendeva le diocesi di Modena e di Reggio per Alberto Azone bisavo della Contessa Matilda quella che aveva accolta nella sua fortezza di Canossa l'imperatrice Adelaide per ultimo creò il Marchesato di Monferrato per suo genero al Marano alle città italiane riuscì utile questa sostituzione degli stranieri e nuovi feudatari agli antichi il potere dei nuovi signori era vacillante ed incerto i loro vassallini erano gelosi e lungi dal difenderli cercavano di spogliarli dei loro diritti vicini non si muovevano per soccorrerli ed ogni giorno perdevano qualcuna delle loro prerogative abbandonarono quindi le città e si ridussero nei loro castelli dove credevansi più sicuri ma trovarono per tal modo rispetto al potere ridotti alla condizione dei gentiluomini come che conservassero la superiorità del rango vedremo nel suo seguente capitolo quali furono le differenze che ebbe ottone il grande con la chiesa e vedremo altrove i motivi della lunga guerra che egli e suo figliuolo sostennero contro i greci per il possedimento della calabria e del ducato di benevento questi sono i soli avvenimenti del regno di ottone in italia di cui gli storici abbianci conservata distinta memoria dopo aver consumato la conquista del regno lombardo ottone era tornato in germania l'anno 965 ripassò in italia l'anno seguente e risedette successivamente in ravenna in pavia in roma in capua fino al 972 nel quale anno rivide la germania dove morì presso a magdeburgo il giorno 7 maggio l'anno 978 gli succedette suo figliuolo nominato pure ottone che il padre aveva chiamato a parte dell'impero l'anno 967 una guerra civile mossa contro di lui da enrico il risoso duca di baviera obbligò il giovane ottone a rimanere in germania fino al 980 passò dopo in italia dove morì nel 988 allora che parleremo delle repubbliche marittime e di quelle della magna grecia dovremmo dire alcuna cosa intorno alle guerre che nel corso del poco illustre suo regno ebbe ottone secondo a sostenere contro le medesime ottone morendo lasciava un fanciullo sotto la tutela di teofania sua consorte della propria madre adelaide e dell'arcivescovo di colonia travagliato questo giovane principe durante la sua età minorenne dalle guerre civili che ebbe a sostenere contro il duca di baviera enrico il litigioso non venne poi in italia che nel 996 ove morì nel fiore dell'età sua l'anno 1002 in esso che fu ottone terzo si spense la famiglia di sassonia dopo aver posseduto 41 anni il regno unito dell'italia e della germania in questo spazio di tempo i principi della casa di sassonia dimorarono 25 anni fuori d'italia quantunque durante la loro assenza il governo generale della nazione rimanesse in qualche modo sospeso in perciò che non promulgavasi senza l'imperatore veruna legge criminale non riunivasi l'assemblea della nazione non eravi guerra pubblica non leva d'uomini per l'impero non tasse per il monarca e siccome la sovranità nazionale non poteva restare inerte così rifondevasi nelle province i signori di prelati emanavano i ditti le città leggi municipali i feudatari nominavano i giudici dei villaggi il popolo consoli ed i pretori nelle città ogni corpo si rivendicava il diritto di difendersi ogni cittadino diventava soldato per ultimo magistrati eletti dai loro uguali determinavano per le spese municipali una tassa quasi volontaria ed un consiglio che veniva chiamato consiglio di confidenza amministrava il danaro della città il sentimento che i popoli attaccano all'idea strata di patria è composto dai sentimenti di riconoscenza per la protezione che accorda d'affezione per le sue leggi e costumanze e di partecipazione alla sua gloria ma lo stato era in modo diviso che ogni cittadino non poteva conoscere se non la protezione dei magistrati della sua città siccome non poteva conoscere che le leggi le usanze e la gloria della sua città e delle di lei armi talché abbandonando l'idea indeterminata di membro di un impero che non conosceva e col quale non aveva alcun rapporto che incomodo non fosse ogni cittadino s'avvezzava circoscrivere alla sua città l'idea di patria e tutta la sua patria in tal maniera formossi nell'opinione degli uomini una strana rivoluzione e fin qui senza esempio in perciò che quantunque la prosperità e la libertà siano state sempre eretaggio esclusivo delle piccole nazioni come appartengono ai grandi stati il dispotismo i grandi abusi i traviamenti dell'ambizione le guerre senza oggetto e le paci senza riposo non erasi ancora veduto e forse non si vedrà mai più un popolo rinunciare agli attributi di grande nazione alla gloria attaccata ad un nome collettivo alla grandezza alla potenza per cercare la libertà nello scioglimento del suo legame sociale la subordinazione feudale veniva scossa da ogni rivoluzione dell'impero in modo che più stranieri rendeva sempre gli uni agli altri i membri dello stato la morte di ottone terzo liberò le città dalla riconoscenza dovuta alla famiglia del grande ottone e la guerra civile eccitata dall'elezione del suo successore diede il loro motivo di sperimentare le proprie forze e di conoscere che non avevano mai più bisogno di un protettore straniero saputesi in germania la morte di ottone terzo il marchese di turinja il duca di germania ed enrico terzo duca di baviera figliolo di enrico il rissoso si disputarono la corona dopo una breve guerra civile rimase all'ultimo che era nipote del fratello del grande ottone e fu coronato a magonza sotto il nome di enrico secondo re di germania benché non fosse per gli italiani che enrico primo non contando questi enrico l'uccellatore il quale non fu loro re noi indicheremo questo principe ed i suoi successori dello stesso nome col numero adoperato dai tedeschi per evitare la confusione di un doppio numero intanto la dieta dei signori italiani riunitas in pavia eleggeva re di lombardia arduino marchese di vrea la convenzione della nazione italiana contratta con la casa di sassonia non aveva più vigore dopo che questa famiglia aveva cessato di esistere i regni d'italia e di germania erano affatto l'uno dall'altro indipendenti aveva una legge obbligava ad affidarne l'amministrazione allo stesso monarca a fronte di così evidenti ragioni l'elezione di un re lombardo si risguardò dai tedeschi come un atto di ribellione per cui si disposero a riconquistare l'italia e continuando in questa loro strana pretensione trattarono sempre gli italiani come un popolo nemico o ribelle che dovevasi atterrire con rigorosi castighi e tenere sotto il gioco gli ottoni furono i protettori della libertà delle città e gli enricchi con la diffidente loro durezza sforzarono queste città medesime a rivolgere contro di loro quelle forze che avevano ricevute dalla libertà Arduino era stato eletto in Pavia e tanto bastava perché i milanesi si dichiarassero contro di lui in Perocchè Pavia e Milano si disputavano il primo rango tra le città lombarde e sentivasi di già abbastanza forti ed indipendenti per potersi abbandonare alla vicendevole loro gelosia a ciò si aggiungeva che Arnolfo arcivescovo di Milano aveva particolar motivo d'essere scontento di Arduino egli arrivava dopo chiusa la dieta di Pavia da un'ambasceria a Costantinopoli speditovi da Ottone III onde risguardò come illegittima l'elezione d'un re senza l'intervento del primo prelato della nazione approfittando dei soccorsi dell'arcivescovo e della città di Milano Enrico di Germania riconosciuto re da una nuova dieta di Roncaglia si affrettava di venire in Italia per la strada di Verona Arduino abbandonato dalle proprie truppe che si dispersero prima di misurarsi col nemico si vide costretto a rifugiarsi nelle fortezze del suo marchesato lasciando che il suo rivale si avanzasse senza incontrare ostacoli fino a Pavia dove ricevette dall'arcivescovo di Milano la corona d'Italia lo stesso giorno di incoronazione le indisciplinate truppe d'Enrico diedero nuove ragioni agli abitanti di Pavia di attaccarsi al suo rivale i tedeschi riscaldati dal vino insultarono i cittadini in modo che trovarono si costretti di reprimere con le armi gli oltraggi di una soldatesca indisciplinata ad Enrico venne dai suoi cortigiani rappresentato questo tumulto siccome un furore di plebaglia e l'esplosione di un'arroganza di schiavo che doveva si reprimere con la forza ma la ribellione era più estesa ed il pericolo maggiore non era annunciato Enrico trovò si assediato nel palazzo che le sue guardie difendevano a stento per liberarlo e sottomettere i pavesi ribellati non potendo per essere state barricate le strade avanzarsi la truppa di Enrico accampata fuori di Pavia mise il fuoco alla città l'incendio allargandosi rapidamente favoriva il massacro e la superba capitale dei Lombardi fu bentosto un mucchio di ruine sparse di sangue da cui Enrico si allontanò subito con la sua armata frattanto i pavesi rifabbricarono la loro città e consacrando le nuove mura giurarono di vendicarsi dei tedeschi e proclamato di nuovo arduino dedicarono le loro armi e le loro fortune al rialzamento del suo trono Enrico cui stava infinitamente più a cuore la conservazione della Germania che l'apparenza di uno sterile potere in Italia lasciò passare dieci anni senza portarvi di nuovo le sue armi d'altra parte aduino mancante di truppe e di danaro poco profitto ritraeva dai suoi talenti e dal suo coraggio Vercelli Novara Pavia e probabilmente quasi tutte le città del Piemonte riconoscevano i suoi diretti alla corona ma queste città non potendo soldare milizie rifiutavasi di ricevere il re entro le sue mura per non ricevere col re le sue truppe indisciplinate ed un potere dispotico arduino perciò riparavasi nelle fortezze del suo antico marchesato e non rammentava ai popoli la sua dignità reale se non con qualche donazione ai monasteri solo i documenti che si amano a noi prevenuti del suo regno pareva che le città si fossero parzialmente incaricate di difendere i diritti dei due concorrenti milano attaccava frequentemente con le sue milizie i limitrofi vassalli di arduino mentre i cittadini pavesi guastavano il territorio milanese tutti si esercitavano nelle armi tutti si abbandonavano alla gelosia onde erano animati verso i loro vicini tutti si accostumavano a non risguardare per loro patria che la propria città ed adottavano il nome dei re piuttosto per giustificare le loro guerre che per voglia che avessero di abbracciare la causa dei monarchi per cui apparentemente combattevano enrico ii fu in italia nel 1003 e nel 1014 e ricevette a roma la corona imperiale dalle mani di benedetto ottavo senza che giammai si scontrasse con le armate di arduino ma dopo il ritorno di enrico in germania il re lombardo sorpreso da grave malattia depose spontaneamente le insegne reali e si fece monaco nel monastero di frutteria per prepararsi alla morte nel 1024 gli italiani tentarono ancora di liberarsi dalla tedesca dipendenza approfittando della mancanza del re cui per essere divisi i voti degli elettori non veniva dato alcun successore perciò gli italiani offrirono successivamente la corona di lombardia a roberto re di francia e da guglielmo duca d'aquitania ma questi due principi avendo saggiamente riflettuto alla debolezza della monarchia italiana ai pericoli e dalle spese che sarebbe loro costato l'acquisto di un onore illusorio rifiutarono un dono che avrebbe rovinato gli antichi loro sudditi l'arcivescovo di milano che aveva la direzione di questi trattati risolvette di passare egli stesso in Germania e trattare la pace a nome della sua nazione con Corrado il Salico duca di Franconia che era stato eletto da una dieta tedesca ed il cui nome va unito alle ultime leggi che compirono il sistema feudale Corrado II discendeva in linea femminea da Ottone il Grande lo che gli diede un titolo per aspirare alla corona il suo predecessore Enrico II era morto senza figliuoli ed una della virtù che lo fece degno con Cunegonda sua moglie dell'onore degli altari vuolsi che fosse la fedeltà con cui mantenne fino alla morte il voto di verginità emesso di consenso della sposa Poiché Corrado ebbe pacificata la Germania e stabilita la sua discesa in Italia spedì secondo l'usanza che di fresco era in valsa deputati a prevenire tutte le città della sua venuta chiedendo loro il giuramento di fedeltà ed il pagamento delle tasse che in questa sola circostanza erano devolute al tesoro reale tale imposte chiamavansi nel barbaro latino di quei tempi federum parata emazionaticum il primo consisteva in una determinata quantità di vittovaglie destinate al mantenimento del re e della sua corte che d'ordinario venivano rappresentate da una somma di denaro il secondo era un tributo con di cui prodotto riparavansi le strade ed i ponti dei fiumi che doveva attraversare il re il terzo serviva alle spese dell'alloggio dei cortigiani e dell'armata reale durante il loro viaggio corrado venne fino a roncaglia pianura posta in riva al po presso piacenza ove avvenuta degli imperatori riunironsi sempre le diete italiche pareva che d'improvviso sorgesse una città in mezzo deserta campagna piazze e strade tirate a filo separavano i padiglioni reali da quello dei signori e dell'armata ed una muraglia circondava tutti questi quartieri i negozianti che vi accorrevano da ogni banda costruivano le loro botteghe fuori dalle mura e formavano i soborri della città che avevano l'aspetto di una magnifica fiera il padiglione del re ergevasi al centro del suo campo innanzi al quale vedevasi appeso ad un'antenna uno scudo cui tutti i feudatari invitati dall'araldo facevano a vicenda la sentinella la funzione di vegliare armati le prime notti teneva luogo di revista dell'armata e gli assenti potevano essere condannati alla perdita del feudo per non aver soddisfatto il loro dovere di accompagnare il re nella sua spedizione i primi giorni della dieta erano dal re consacrati a decidere le cause private onde tenersi in possesso dell'esercizio del potere giudiziario riceveva nei susseguenti giorni le ambascerie delle città regolandone i rapporti con la monarchia e terminando le vicendevoli loro controversie finalmente negli ultimi giorni della dieta il re si occupava degli interessi dei signori e delle questioni attinenti ai feudi la dieta che nel 1026 fu preseduta da Corrado il Salico viene indicata da alcuni storici quale epoca importantissima ad un cambiamento nella legislazione feudale credendo che la prima costituzione che trovasi nel quinto libro dei feudi si promulgasse in quest'epoca per la legge di Corrado il Salico tutti i benefici militari furono dichiarati ereditari di maschio in maschio e si costruisero i signori di rinunciare all'abusivo diritto di privare dei propri feudi i loro vassalli tranne il capo di Fellonignà ed anche in allora e dopo un giudizio dei loro pari poiché ebbe scorsa l'Italia e rinnovate con pubbliche udienze ed importanti giudizi la memoria dell'autorità imperiale Corrado ritorna con la sua armata in Germania né appena fu lontano nuovi disordini mostrarono i vizi del sistema feudale che questo monarca aveva inutilmente cercato di correggere le città del centro della Lombardia godevano gli è vero di una libertà assai estesa ed i grandi e specialmente i prelati avevano scosso il gioco dell'imperatore ed emancipatisi quasi affatto dalla sua autorità ma i gentiluomini i capitani i valvassori che formavano l'ordine equestre lungi dal partecipare della libertà degli altri ordini vedevano peggiorata la loro condizione pareva che la nazione non formasse un solo corpo che nelle diete o udienze di Roncaglia ma ancora queste i gentiluomini intervenivano senza missione senza privilegi senza alcun appoggio per riclamare contro la sovercheria dei grandi feudatari o contro le usurpazioni delle città terminata la dieta scioglievasi ancora lo stato ed i signori dei castelli ritornavano nei loro domini per difendervisi e farsi giustizia con le proprie armi e con quelle dei loro vassalli le campagne venivano affatto rovinate da queste guerre private e tutto posto in estrema confusione il ladroneccio che accompagnava le guerre della nobiltà fu sottocorrado piuttosto sospeso che represso dalle munizioni di alcuni uomini il quale pretendevano e forse anche credettero di buona fede avere loro il cielo rivelato che Dio ordinava gli uomini d'ogni credenza una tregua di quattro giorni per settimana dopo la prima ora di giovedì fino alla prima ora del lunedì tutti gli uomini per qualsiasi errore da loro commesso dovevano in questi quattro giorni essere in libertà di occuparsi dei propri affari e guai a coloro che durante la tregua di Dio facessero qualche vendetta contro i propri nemici o contro quelli dello stato questa pace si predicò la prima volta all'anno 1033 dai vescovi di Arles e di Lione e nella stessa epoca fu introdotta in Italia ove non ebbe mai vera intera esecuzione erano gli italiani fra tutti i cristiani i meno superstiziosi e meno degli altri disposti a prestare fede ad un ordine emanato dal cielo le private guerre dei gentiluomini furono in breve seguite da una guerra più generale che essi di comune accordo dichiararono ai prelati che erano per loro più loro signori ed in pari tempo agli abitanti delle città i valvassori non potevano vedere senza gelosia questi uomini nati loro uguali o inferiori godere dell'autorità sovrana i primi come principi gli altri come repubblicani lagnavansi in espaccial modo dell'orgoglio di Roberto arcivescovo di Milano il quale senza aver verun rispetto della costituzione di Corrado spogliava dei suoi feudi qualunque dei suoi vassalli avesse la sventura di cadere nella sua disgrazia allorché se però che l'arcivescovo aveva ingiustemente oppresso un gentiluomo tutti i vassalli della sede milanese presero ad un tempo le armi ed il loro esempio fu seguito da tutti i gentiluomini della Lombardia dall'altra parte i cittadini che erano stati soverchiati più volte dalla nobiltà e che credevano partecipare della grandezza dei loro prelati presero le armi per difenderli la prima battaglia si diede nelle contrade di Milano dove dopo un'ostinata resistenza i gentiluomini dovettero abbandonare la città ma giunti in campagna trovarono molti ausiliari che si posero sotto le loro insegne e la città di Lodi invidiando la grandezza di Milano dichiarossi a favore dei gentiluomini i quali nella battaglia di Campomalo ruppero i milanesi comandati dall'arcivescovo chiamato da questi disordini nuovamente in Italia l'imperatore Corrado convocò la dieta di Pavia onde provvedere ai tanti mali incominciò dall'ordinare l'arresto dell'arcivescovo Eriberto e dei vescovi di Vercelli di Cremona e di Piacenza ed appoggiò caldamente le lagnanze dei valvassori ma ogni sua pratica riuscì inutile all'orrestabilimento della pace I prelati fuggiti alle guardie imperiali riguadagnarono le loro città e trovarono i cittadini pronti ad armarsi per la loro difesa Corrado volle inseguirli e fu respinto dai milanesi e costretto di rinunciare all'assedio di quella città Ad accrescere la confusione prodotta da questa guerra civile si aggiunse una nuova scissura I gentiluomini insorti avevano pure essi dei vassalli con giurisdizione militare che in allora chiamavansi i valvassini i quali tenevano schiavi ossia servi attaccati alla gleba Queste due classi di uomini in tempo che con gli altri ordini della società impugnavano le armi per l'indipendenza si credetero ugualmente in diritto di riclamarla e presero le armi contro i loro signori chiedendo la libertà generale A quest'epoca tutti i ranghi della società trovaronse in guerra gli uni con gli altri ma l'eccesso medesimo dell'anarchia produsse finalmente una pace vantaggiosa a tutta la nazione i diritti di ciascun ordine furono stabiliti con precisione la costituzione di Corrado intorno alla successione dei feudi fu adottata dalla nazione quasi tutti gli schiavi furono posti in libertà e soppresse o addolcite assai le più umilianti condizioni annesse alla dipendenza feudale finalmente bramando i gentiluomini di avere una patria si determinarono quasi tutti di farsi inscrivere alla cittadinanza delle città vicine ossia per valermi della frase di quell'età di raccomandare le persone ed i feudi loro alla protezione delle città è assai verisimile che questa generale pacificazione si effettuasse l'anno 1039 nell'istante in cui le armate trovandosi a forte vicinanza di Milano la notizia della morte di Corrado il Salico le consigliò a deporre le armi